Adesso... Ciao Contarello, voglio un'idea... Sì... Com... Sì... Sì... Grazie... 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 Complimenti... 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 Grazie... 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 Che spettacolo... Questo sfondo è perfetto... Sì... Ciao ragazzi... Ciao... Ciao... Grazie a te... Ciao... Ciao... La piazza della Fabricola... Sì... Si... Ci! E rove... Non ho sbagliato... Non ho스canla... Non ho laosta... Grazie. 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 Scusate un secondario. Grazie. Grazie. Scusate. Grazie. Grazie mille. Grazie. Roma un più del cinema italiano ed ecco qui il saluto di Roma a Paolo Sorrentino Grazie di tutto, arrivederci Dov'è? Perché non ha ringraziato Medusa Grazie Medusa Grazie Quindi Cristian, Paolo Sorrentino l'uomo in più del cinema italiano, giusto? La grande bellezza, Paolo Sorrentino